Da una parte la multinazionale Rio Tinto, dall'altra i cittadini di Loznica, territorio serbo al confine con la Bosnia. La solita lotta impari per dire no al progetto Jadar, che investe 450 milioni di dollari per l'estrazione della Jadarite e la produzione di litio, fondamentale per le batterie delle auto elettriche. Un cantiere che dovrebbe aprire nel 2023 se tutte le perplessità legate all'impatto ambientale dell'operazione dovessero essere archiviate. La situazione in Serbia per quanto riguarda la protezione dell'ambiente è completamente sfuggita di mano, perché non c'è un solo posto nel paese in cui gli investitori locali o internazionali non stiano devastando. Siamo venuti qui a bloccare la strada con i nostri corpi per mandare un messaggio. Non siamo disposti a svendere il nostro paese, a lasciarlo inquinare, a sacrificare per il profitto di società straniere e multinazionali qualcosa che è nostro, e per cui il sangue dei nostri antenati è stato versato. Molti abitanti delle zone interessate dai progetti estrattivi si sono rifiutati di mettere in vendita le loro proprietà. Il Parlamento potrebbe però autorizzare l'esproprio per interesse pubblico. La Serbia ha potenzialmente i più grandi giocimenti di litio in Europa, pari al 10% delle riserve mondiali.